Il cielo in un chiostro, il cubo di botta non c'è più, è stato rimosso nell'ambito della riorganizzazione di Palazzo Crepadona finanziata dal bando Periferie. Addio quindi alle strutture espositive che occupavano lo spazio centrale, destinato a diventare un patio coperto da un tetto di vetro nel cuore della futura Mediateca delle Dolomiti. Entra una manciata di giorni la demolizione della soletta in cemento, poi ci saranno alcuni accertamenti di tipo archeologico sulle fondazioni. È una fase importante perché da oggi praticamente il cubo non è più presente all'interno del Palazzo Crepadona, era una presenza importante e sicuramente anche una presenza ingombrante. Adesso la Corte ha ripreso la sua forma, la sua dimensione, la luce entra all'interno di questo palazzo anche dalle pareti laterali delle famosi loggiati e quindi ha acquisito tutto un altro spirito. Una fase importante, sono in corso le demolizioni delle solette che appoggiavano e che appoggiano sulla corte interna e quindi i lavori stanno andando avanti e si incomincia a vedere diciamo già uno spazio di grande interesse per la futura biblioteca a disposizione dei ragazzi anche per lo studio ma soprattutto con una nuova metodologia, scaffali aperti. La scala chiocciola e l'ascensore interno verranno demoliti per aprire nuovi spazi, verranno sostituiti da nuove strutture che si eleveranno dal chiostro mentre al piano terra dovrebbe sorgere un punto ristoro. E poi c'è la terrazza con vista sulla città un tempo utilizzata anche per eventi. La nuova copertura sarà più bassa rispetto a quella del cubo di botta e quindi la visita rimarrà più o meno questa. I ragazzi che frequentano le sale studio della biblioteca per la giovane età non hanno mai visto il palazzo prima del cubo di botta. È sicuramente perché la corte è stata chiusa se non ricordo male 12-13 anni fa per cui alla sempre vista diciamo chiusa occupata da questo spazio che ricordo era uno spazio creato all'interno di questo cortile proprio per avere a disposizione un grande spazio per fare delle esposizioni, delle opere d'arte, di quelle mostre che si sono succedute negli anni.